Tutti ragazzi, buona vista da posto per tutta la legge della PNV, inglese della PNV e spagnola Uehuh, tutti ragazzi, allegria, via per tutti voi, via il calcio sportivo bello del mondo Eccoci qua, lo facciamo qui per i tre prossimi, le tre partite del giorno Partiamo subito, Udinese, Inter, 2 più over, 1 e mezzo dico, 0, 2 per Inter Già la Juventus 4, 2, più, gol, 1 a 2 per la Juventus, infine, Bologna, Atalanta Da 1, 2 per 2 e mezzo, direi un bel 3 a 1, 3 per la Bologna, 2 a 4 per l'Atalanta Noi ci vediamo in un nuovissimo video Mi raccomando, ragazzi, vi chiederò un giorno divertente con qui per un'altra schedina Buona la prima con la rima, il giorno prossimo, schedina Siamo con voi, ragazzi, buona rima